Di nuovo buon pomeriggio, bentrovati da Muoversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. Una perdita di carico segnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli-Ovest in direzione di Livorno. Traffico lento sull'Ai45, la bis Tiberina dopo un veicolo in fiamme allo svincolo Valsavignone in direzione di Ravenna. Sulla 1 ci sono code tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Veniamo a Firenze, ripercussioni possibili sulla viabilità per due eventi, il concerto degli inglesi Radiohead al Parco delle Cascine e la manifestazione Pitti, immagine uomo alla fortezza. Per il concerto ricordo sono stati potenziati i servizi di linea 1 della tramvia, prolungamento straordinario fino alle 2 di notte con un tram ogni 6 minuti. È tutto per il momento, muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.